Il 24 agosto del 2017 700 ettari di bosco in Piemonte andarono a fuoco. Di questi 700 ettari 250 appartenevano alla riserva naturale del torrente Orba, una zona speciale di conservazione che ebbe gravi danni alla garzaia e ovviamente a flora e fauna locali. In un attimo, in quei momenti concitati, quei 700 ettari di bosco andati a fuoco divennero 7.000 per la rivista Piemonte Parchi, rivista di informazione e divulgazione naturalistica della regione Piemonte. Fu un mero errore materiale e dal dato fornito dalla protezione incendi di 700 ettari venne aggiunto per sbaglio 1.0. Questo però ci insegnò due cose. Intanto che nell'ottica dell'emergenza e nel momento dell'emergenza il dato va verificato e verificato più volte e poi che i cambiamenti climatici, le conseguenze dei cambiamenti climatici vanno comunicati non solo nel momento dell'incendio e non solo nel momento dell'alluvione, ma quotidianamente perché gli effetti sono sotto gli occhi di tutti noi. Di questo mi piacerebbe parlarvi in questa masterclass. Io sono Emanuela Celona, sono una giornalista, mi occupo da più di 20 anni di natura protetta e soprattutto di divulgazione della natura protetta, lavorando per la rivista Piemonte Parchi e avendo anche altre collaborazioni freelance.